Oggi, 13 dicembre, si celebra la memoria di Santa Lucia, una donna siracusana che all'incirca, nel 304 d.C., subì il martirio sotto il regno dell'imperatore Diocleziano. Come San Nicola, di cui vi ho parlato la settimana scorsa, anche Lucia, in alcune zone dell'Europa, il 13 dicembre, per tradizione, porta doni ai bambini. Una cosa è sicura, è che Lucia subì un martirio atroce per opera del prefetto della città di quel tempo, e alcune fonti sostengono che le siano stati cavati anche gli occhi, ma su questo esistono versioni discordanti. Il fatto che la santa venga raffigurata mentre regge su un piccolo vassoio due occhi e che sia invocata contro le malattie della vista non è strettamente collegato al martirio, ma potrebbe rimandare proprio al suo nome, Lucia, che etimologicamente deriva dal lux, dal latino lux, luce. Non a caso il 13 dicembre è il giorno più corto e più buio dell'anno. Santa Lucia, allora, è la santa che ci invita ad aprire gli occhi per accorgerci di Dio, della sua presenza, per metterci sotto la sua luce. Cosa che non sembrano saper fare i sacerdoti e gli anziani ai quali si sta rivolgendo Gesù nel brano di Vangelo di oggi. Gesù si rivolge loro con parole forti, di grande impatto, dice, in verità io vi dico i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Immaginiamoci le facce di questi qui quando si sentono dire questa roba. Giovanni Battista infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da crederli. Gli addetti della religiosità ebraica erano ciechi, non hanno saputo vedere il passaggio di Dio in Giovanni Battista e ancor più in Gesù. E attenzione che anche noi spesso rischiamo di essere ciechi, non saper vedere il passaggio di Dio nella nostra esistenza, non saper vedere la sua luce. E questo perché? Perché non sappiamo andare oltre noi stessi, oltre la nostra volontà. La prima parte del brano del Vangelo, dove Gesù fa l'esempio dei due figli, dei due fratelli, ci aiuta a fare chiarezza. Vediamo che un padre chiede ai due figli di andare a lavorare in vigna e ciò che accomuna i due fratelli e che entrambi non ne hanno voglia. Il primo dice che andrà a lavorarvi ma non ci va perché non ne ha voglia. Il secondo dice di non avere voglia però poi ci va. Morale della storia? Ecco, che rischiamo di essere dei cristiani che dicono ma che in realtà non fanno. Parliamo tanto di Dio, di amore del prossimo, di fede, di preghiera però poi non muoviamo un solo dito, non facciamo lo sforzo di pregare e di amare. Ci compiacciamo di parlare di fede, di parola di Dio però poi non si concretizza nulla. La parola non prende forma e vita in noi. Gesù con l'esempio dei pubblicani e delle prostitute ci dice che ci sono persone che magari senza dire nulla mettono in pratica la parola di Dio, molto di più di noi che ne parliamo tanto. La differenza sostanziale tra i due fratelli è che uno, cioè il secondo, disobbedisce la propria non voglia di andare a lavorare. Subito non ha voglia però poi disobbedisce a se stesso. Spesso, anche oggi, ciò che abbiamo voglia di fare sembra essere l'assoluto, la regola principale. Faccio solo ciò che mi va, ciò di cui ho voglia, ma questo non ci porta lontani. Spesso ci mascheriamo dietro l'alibi che le cose vanno fatte volentieri, se no è meglio non farle, ma siamo sicuri che sia davvero una buona idea, un buon vivere? Non è assolutamente così. Se io obbedisco solo a ciò che mi va, andrò poco lontano nella vita. Per esempio, se io studio solo quando voglia, non so mai quando arriverò al diploma o alla laurea. Se cresco un figlio solo quando ne ho voglia, che figlio rischio di tirare su? Se noi andassimo a lavorare solo quando ne abbiamo voglia, quanti lavorerebbero in questo mondo? Se dovessimo prenderci cura di un malato, di una persona solo quando ne abbiamo voglia, chi si prenderà mai cura di una persona che ha dei problemi? E se sto insieme a mio marito o mia moglie, finché ne ho voglia, quanto durerà quel matrimonio? Per ottenere qualcosa nella vita bisogna imparare ad andare contro la nostra voglia e questo vale nel campo dell'amore e della fede a maggior ragione. Se amo solo quando ne ho voglia e se prego solo quando ne ho voglia, il mio amore e la mia fede avranno la consistenza di un budino. Quei sacerdoti e quegli anziani avevano visto sì Gesù da vicino, lo avevano ascoltato direttamente, avevano ascoltato le sue parole, visto i suoi miracoli, ma non si erano lasciati toccare e smuovere da lui. Non ne hanno avuto voglia, non sono andati oltre la loro volontà, non hanno avuto voglia di mettersi in gioco, hanno preferito restare nella loro comfort zone, nella loro zona confortevole, nella loro zona comoda. Chi invece si è lasciato smuovere da Dio, ecco che ha visto la sua vita cambiare davvero, ma per fare questo occorre andare contro la propria volontà, contro il proprio sentire, per aderire alla volontà di Dio. Per cui chi dice di amare e di pregare solo quando ne ha voglia, quando se la sente, rischia di non amare e di non pregare mai, o magari raramente. Buona giornata.